11 agosto 2013, siamo in Val Grisans, vedete là in fondo la diga di Beregord, allora noi siamo partiti da Bauling, 1700 metri, è lungo un traverso boschivo, ramarando un po', siamo usciti sotto quel canalone lì che vedete, poi su questo ripido pindio siamo arrivati qui al colle del Tighet, 2540, là c'è il monte, tutta questa cresta che dovremmo fare in discesa e qui c'è la salita delle torre del Tighet, allora chiudiamo qui la trasmissione e ci sentiremo dopo. Ecco la cresta delle torre del Tighet, là dietro l'anticima c'è la vera cima, qui vi faccio vedere un panorama con la grivola e il ghiacciaio di Chateau Blanc, a dopo, continuo la gita, ecco la cima della torre del Tighet, con sullo sfondo il monte bianco, allora qui c'è Enzo, eccolo qua l'artefice, il capoguida qui di tutti, adesso vi faccio vedere, allora lì c'è uno splendore di tutte le nostre Alpi con il dente, lo giuras, di qui c'è Monterosa un po' con qualche nuvola, ecco qui c'è tutti i torioni soperati da noi, vedete un po', ecco qua, la cresta, ci sono stati dei passaggi anche di quarto, molto, molto aerea, molto sempre sull'esposizione massima e siamo praticamente agganciati da quei prati là, seguendo tutto qua, qui è la vetta, allora, lì sotto c'è Planaval, là c'è la grivola, allora qui c'è ancora Enzo, beh, l'Emilio, faccio vedere, l'Emilio c'è là, allora qui c'è di nuovo la cresta, sì, allora qui c'è ancora Enzo, allora, il tutto è stato eseguito fedelmente per tutta la cresta da, dove siamo partiti? Bauli, in cinque ore, esatte, abbiamo perso molto tempo perché in un'ora e 45 eravamo già al colle del Ticket, circa, un'ora e 50, così, e tre ore a fare tutta questa cresta, è stata una cosa lunghissima, faticosa, ma ci siamo riusciti, allora, allora, di qua c'è il Rutor, il Paramon e la Gran Sierre e niente, adesso Enzo mi fa l'inquadratura e poi alziamo i tacchi. St. Ciel, St. Ciel, St. Ciel, ringrazio la compagnia di Enzo, di avermi fatto seguire queste torre del Ticket in integrale in cinque ore da, no? Baulin, e qui c'è la vera vetta e con questo 11 agosto 2013 do appuntamento alla prossima torre del Ticket 2974. E vai, vetta, 2974. Non l'avevamo detto. Saluto. Tino la trasmissione, ecco là tutta la torre del Ticket eseguita in integrale, scesi e arrivate qui alla torre Tonda, 2.570, 580, tutto per cresta, adesso scenderemo di lì verso Baulin, in anello per il Monte Colombo, lì il monte, com'è quello che c'è lì? Paramonte e lo Chateau Blanc. Chateau Blanc e il Paramonte. E con questa immagine della cresta del Ticket e dell'integrale e di questa cima, mando i saluti, alla prossima! Grazie. Grazie.